Ehi sono Matt e questo video di Aie Coffee Sprint comincia così Toni dai e andiamo a Polonia Aie Coffee Sprint Poi ragazzi un video totalmente a caso Ok dai facciamo una serata brava a Bologna Serata bolognese con i Fosca ed Anthony Ma si dai registriamo un po' le pazzie che facciamo Facciamo un po' vedere i coffettari cosa combinano nelle serate bolognese Ora mentre Anthony e Guida andiamo verso Bologna Io mi bevo la coca e mangio il macchina da Anthony Eccoci ragazzi siamo arrivati a Bologna Comunque ragazzi avevo caricato anche Peppone Saluto Peppone Eccoci qua Stiamo cercando parcheggio a Bologna che è un'impresa E stiamo beccando incidenti ovunque a Bologna Ma quali chi è? È la Pula quella raga Ma che guidano come i capelli? Per una cosa che il nostro amico capitano Cioè è Anthony lo speziato Prefiscia Anthony o Anthony lo speziato? Preferisco chiamatemi Essere Anthony il privilegio è di essere senza paura Certo Guarda quello è il problema Ti hanno dato una maledizione Minchia Una settimana con Anthony Pimpiamo tutto Pimpiamo la coca cola Esatto bravo E buona malcone Sì sì Soprattutto quella bianca Siamo arrivati Signora Ma qui è interessante le persone Esatto Qui è il fratello giusto Anthony Piazza San Francesco vicino al fratello Qua Che bella chiesa Vedete ma il cassero Ma no Sì se non avete proposto i migliori Vi vi ascolto Scusa il cassero no Mi ha appena detto che è un posto un po È il frozen Cioè vuoi andare al frozen Vai anche al cassero No no Non ci andiamo perché rischiamo male Ma non ti culano ma non succede il cassero Potrebbe anche piacerti No 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 Ma hai mai avuto nel culo Come fai a dirlo che non ti piace? Eh scusa Io mi risolto un po' queste cose Ok Matteo è omofobo Matteo è omofobo No no c'è questo No 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 Non mi interessa diciamo Comunque Anthony è single Che cazzo stai dicendo? Potete scrivere nei commenti E proporvi per lui Per il nostro sciista Esperienze mistiche del signore Anthony Trovato la foto? Trovato? Sì Facete la foto? Oddio Ma che cazzo? Bologna Il giro per Bologna Di pomeriggio Ma cazzo Ma cazzo I baci Cioè baci C'è No Cosa hai pensato Appena hai visto Una bella emozione forte Emozioni forti Indimenticabili Di Anthony Sì Anthony adesso sta Andiamo al zecco dai Allora adesso Anthony Andiamo al cassero Al cassero Però adesso Metterai La tua abilità in atto Cioè fermare raggi in te Bene Cosa fa il cop? Eh pochi Mi faccio intervistare volentieri Ok Cosa ci consigliate di fare Stasera qui a Bologna? Eh? Qualcosa che ci consigliate di fare Più a Bologna stasera Che non siamo di Bologna noi Beh Specialmente con uno così Con gli occhi Da sceli addosso Beh Dipende un po' Quali sono i tuoi interessi Secondo me Cioè Sei nel posto giusto Insomma Qua la fantasia Può Può viaggiare i pareti Ok Quindi non ci consiglii andare Qua E mi raccomando Perla del giorno La vita è un biscotto Ma se piove si scioglie Un mito Un mito Un mito Cosa pensano Delle LGBT Vale Esatto Che merda Che merda Giusto Perfetto Poi altri Cosa pensi Delle LGBT Vaffa 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 Lui ha fatto la foto Con un nono nudo Al Gay Pride Cazzo di caffè Un compleanno qua Un compleanno E' auguro di farvi E' auguro di farvi Lui 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 E' quella data Non la scorda più nessuno I quadri I quadri Lui Lui Possibile Lui Lui Quanti anni Copi 19 Grande Grande 6 Ali Calderara Gireno Vaffa Ci sta Provincia di Volo Grande Top Qualcuno Al fascismo I PAUSA BREAK Per il nostro Scista Capitano Oh Grande Grande Capitano Cosa prendi Guarda Vado Favere Cos'è Questo Qui Che roba Sono I Cappellacci Di Fucca Buono Se volete Delle Crescentine Venite qua A Bologna Ora ragazzi Andiamo A questo Famoso Cassaro A Farbaldore Con Anthony Si E noi Siamo in fila Per fare La tessera Adesso Giù Giù Tony No Non è un Cazzo Da fare C'è un po' Di fila Per la tessera Anthony Dove siete Pologna Per vacanza Oppure Lavoro Siamo Siamo Pologna Per vacanza Come Siamo Siamo Il Bene Vecano Mi piace Bologna Come città Molto Moltissimo Molto Molto Bella Ha parecchie cose da vedere Che la società ci piace Sono tutti molto estroversi E Proprio una bella Bella impressione Prima di quando restate Dopo Dopo Dovari Purtroppo E Vi piace il locale Qua Siamo qui da un'ora e mezza Quindi Non abbiamo visto tutto Però Molto Molto Divertente Noi viviamo D'una realtà Piccola Quindi Per noi Queste sono cose nuove Però Ci piacciono Siamo aperti Al confronto A vedere Questa realtà E Molto E E Devo dire E E Posso Posso stare Meglio la cucina Di qua di più Eh Questa è bella Eh Non l'ho provata I tortellini Vanno a 27 euro E 90 Quindi Non ho avuto La possibilità Proprio di comprarmi Io studio Non lavoro Però vorrei Tanto Tanto Comprarmi Secondo me Sono entrambe Hanno entrambe Molta valizzate Io sono apprezzionato La mia Però Sono convinto Che anche la cucina di qua Ha tante cose da vita Sì È È È È È È È È È Che cosa Prendi Tu Cosa Prendi Tu Che è una Figata Qua Dio Di Non mi Di Più È È Mi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi, devo dire che i bolognesi sono più furbi di tutti quanti che mi hanno messo assieme, ballano nei cessi e nulla. Ciao! Seguite i Coffee Sprint TV! Ciao! 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 Ciao!